Sono il commister Beccattini, dopo Terranova-Grosseto 3-2, un Grosseto che era partito bene nei primi 20 minuti, che cos'è successo dopo, secondo lei, del Grosseto? Un Grosseto mi interessa e non ne voglio nemmeno parlare, io penso alla mia, la mia squadra, la nostra squadra, il primo quarto d'ora 20 minuti secondo me ha approcciato nella maniera giusta, ha peccato un po' perché forse siamo fatti trovare impreparati, seriamente l'avevamo preparata anche nella maniera giusta perché ci hanno colpito dove a noi ci fa male, invece i ragazzi hanno avuto un'ottima reazione, ma detto questo non è che noi si sbagliavamo 20 minuti, perché i primi 20 minuti sullo 0-0 si aveva un'occasione nitida e sullo 1-0 Sacconi si è presentato solo davanti al portiere per pareggiare, quindi non è che noi si era fuori partita, noi si era dentro la partita come c'era il Grosseto, poi abbiamo avuto la fortuna di trovare i rigori con Marini e da lì la partita è cambiata, un Terronova che comunque ha già fatto una gran partita, con grandi individualità, dove può arrivare questa squadra secondo lei? Almeno se mi dicesse oggi che questa squadra si salva all'ultima giornata, va benissimo perché sarebbe l'obiettivo massimo di questa squadra, poi dopo arrivare questa squadra si diverte, è orgogliosa di far parte di questo campionato, prima della partita se ne parlava l'anno scorso, però siamo andati a giocare in De Campi che rispetto alla partita di oggi, davanti al Grosseto, davanti a questo pubblico, anche gli ospiti da parte che il Grosseto ci aveva, è veramente emozionante, quindi questa squadra, questi ragazzi sono orgogliosi, contenti di giocare in questo campionato, vogliono far vedere che ci sono anche loro, perché comunque sia forse qualcuno da Grosseto o l'Atraiano non sa nemmeno dove. Ok, azione di vista. Prego.